Il dialogo non è mancato ma le richieste avanzate dai commercianti erano per noi ingiustificabili, così l'amministrazione comunale risponde alle accuse dei titolari delle due attività ancora aperte al mercato del Carmine e tira dritto sulla necessità di liberare i locali per dare il via ai lavori di riqualificazione e adeguamento sismico finanziati con i fondi PNRR. Di fronte alla stampa assessori e funzionari di Palazzo Orsetti hanno ripercorso le tappe dell'intricata vicenda, sottolineando l'interlocuzione mantenuta con gli ultimi due esercizi commerciali rimasti. Secondo il Comune nel corso degli ultimi mesi la 4223, la società concessionaria della riqualificazione del mercato, ha presentato alla macelleria Simonetti e al Bar del Sole rispettivamente tre e due proposte. Nessuna di queste sarebbe stata ritenuta adeguata dai commercianti. Da parte dell'amministrazione c'è stato un totale impegno affinché si potesse trovare una soluzione anche per queste due ultime attività che occupavano i locali del mercato del calmine. Purtroppo sono state fatte delle proposte economiche ingiustificate e molto elevate per cui non siamo riusciti a trovare diciamo un accordo e siamo arrivati con dispiacere ma ovviamente diciamo non c'erano più i presupposti, non ci sono più i presupposti legali per che possano permanere le attività nei locali.